Roma è lì, Italia, Italia Dove avevo la certezza di non fare affari, penso a quello che ha detto anche Putin al G20 Guardi, io credo che la storia di quel pezzo di mondo lì sia una storia molto più complicata da raccontare Però mi risponde la domanda Se noi siamo sicuri che l'Italia non fa affari, certo che siamo sicuri che l'Italia, come dice lei, non fa affari Intesa che un paese, che poi ci siano degli imprenditori che possano fare dei business in quei paesi, mi sembra del tutto doveroso L'Italia è un paese che vuole stare presente in quei paesi Condivido totalmente le cose che Joseph ha detto, quindi ne evidenzio molto rapidamente La prima, la prostituzione È una delle ragioni per le quali uno inizia a impegnarsi in politica Prego, fammi una sega